C'è una giamata così? No, Leone esce il 3, 3 rosso, basso, distrazione, ma nozzina, grande sabbia. Esce il 3, uno dei numeri della NASA, uno dei numeri più stretti, lo zero, e noi c'è un parente. Esatto, io vorrei tanto essere parente della nostra sedietta. Sentiamo, sentiamo. Partecipa subito al nuovo concorso, le classifiche di Vegas Club, e sarai premiato anche se non vinci. Fino al 14 luglio, gioca su Vegas Club seguendo il calendario delle categorie di gioca finata al concorso, e se ti classifichi tra i primi 10 vincitori o tra gli ultimi 10, vinci fino a un massimo di 500 euro di bonus a settimana. Questo è il mete dedicato alla classifica delle slot machine. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di Vegas Club, gioca con noi e buona fortuna!